Le scuderie delle Ondoro, scuderie che sono in provincia di Milano a 30 km circa, qua si svelgeranno delle gare di salto agli ostacoli. Siamo in cerca della Matilde, facciamo in fase di sellatura. Siamo qua con Matilde, poco prima della gara, sei emozionata? Sì, abbastanza. Ah beh, ti credo. E quanto salti? 100 cm, un metro. Quanti anni hai che vai a cavallo? Poco più di 10. E il cavallo è tuo? Sì. Si chiama? Arisco. La passione che ti spinge principalmente ad andare a cavallo? Ma sicuramente lo stare all'aperto, il fatto di… poi sono animali comunque non scontati, magari non come il cane e il gatto, sono animali un po' particolari che incutano quasi un po' paura, quindi ci sta, è una buona sfida prendere e cercare di gestirlo e lavorare insieme a lui creare binomio e il rapporto con l'animale di base. Sullo spingersi oltre, magari ci sono persone che hanno paura e quindi dicono no, io ho paura, però anche lo spingersi oltre, provare a salire, a fare le cose, dà soddisfazione, un sacco di soddisfazione. Vuoi dire qualcosa anche tu? Speriamo che la gara vada bene. Andiamo a vedere quanto mossa. Andiamo a vedere quanto mossa. Fra poco tocca a Matilde. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oli! Brava! Evviva! Cucunetto! Brava, brava! Brava Matti! Stiamo facendo i ballanti al cavallo della Matilde perché è andato a vedere cosa si è classificata.